Nel corso del suo intervento, in occasione della presentazione delle giornate FAI di primavera, il sindaco Gianluca Festa ha sottolineato l'importanza del punto FAI istituito presso Villa Mendola. Una decisione in linea con la sensibilità e l'impegno promosso dal Comune per l'Ambiente, in sinergia con FAI anche per trasmettere la cultura di rispetto per l'ambiente e il patrimonio storico-culturale del capoluogo, ha dichiarato l'appello del sindaco, in particolare ai giovani, a salvaguardare un bene pubblico come l'ex Eliseo. Un messaggio mirato, quello di festa, visto che nonostante l'installazione delle telecamere, la stamane anche il segnale di aria pedonale, il piazzale della Casa del Cinema continua a essere terra di nessuno. La notte avvertono i residenti non si dorme tanto del caos. Anche stamane abbiamo documentato tracce di bivacchi e festini, resti di bottiglie di vetro spaccate a terra, bicchieri, ciotole, petardi, anche escrementi, indizi che testimoniano, serate di convivio piuttosto animate. Non è finita perché avvertono i cittadini, alcuni dei ragazzi a una certa ora si sfidano, lanciando dal piazzale, nel corridoio sottostante, alla struttura, i cassonetti destinati ai rifiuti, rimuovendoli dall'ingresso dell'edificio New Jersey, rifiuti di vario genere, anche batterie di fuochi pirotecnici esplosi. Il resto delle immagini che vi proponiamo dimostra, visto la quantità di rifiuti, che lo scarico dal piazzale è diventato purtroppo un'abitudine quotidiana da parte di chi si sente padrone di distruggere, buttare tutto quello che gli capita a tiro. Grazie.